Grazie. Buon pomeriggio. Ben ritrovati. Qualche secondo che diamo tempo agli amici di potersi collegare. Bene. Come vedete oggi abbiamo provato a cogliere l'attimo. È il 21 giugno, solstizio d'estate. Bene. Questo viaggio oggi lo faremo sempre in poltrona, ma attraversando una dorsale che va da Chartres in Francia, passa per la Puglia e arriva in pieno Mediterraneo, sull'arcipelago degli dei, le isole Eolie, con uno sguardo verso oriente sull'isola di Malta. Allora, il minuto accademico è andato, possiamo partire. 21 giugno sono diverse le date, le celebrazioni su questo giorno di inizio estate. Si festeggia San Luigi con Zaga, da non confondere con San Luigi dei Francesi, che era Luigi IX, detto Il Santo. La rete, il ventaglio di Luigi in Francia è stata piuttosto variegata, ne sono stati ben 18 i Luigi che hanno regnato in Francia, di cui naturalmente il più famoso, un po' come tanti sovrani, anche lui si era paragonato al sole, ma lo inserì addirittura nel suo, nel suo, nel payoff del suo nome, Luigi XIV, il Roi Soleil. La sua giornata, raccontavano i biografi, era scandita come il percorso giornaliero del sole, dall'alba al tramonto, e coinvolgeva in questo anche tutti i cortigiani che come immaginari pianeti dovevano gravitare attorno alla figura centrale del monarca. Vedremo come sia i nomi sia le vicende si incroceranno con i protagonisti di questo nostro itinerario. E se la Francia ha avuto ben 18 Luigi, meglio dei francesi, ha fatto solo la Chiesa, che ha avuto invece una lista lunghissima di papi con il nome di Giovanni, fino a Giovanni XXIII, a cui in teoria bisognerebbe poi aggiungere quelli che hanno messo insieme i nomi di Giovanni e di Paolo e hanno continuato la lunga lista. Madame de Maintenon, a proposito di Luigi XIV, diceva che era così abituato al fatto che tutti vivessero per lui che non avremmo potuto immaginare che sarebbe stato in grado di morire da sé. Ma l'altro Luigi, che è passato anche alla storia, è il XVI, il quale proprio il 21 giugno del 1791 stava provando a scappare perché l'atmosfera era diventata piuttosto invivibile per la casa reale in tempi di rivoluzioni e venne bloccato, cercandolo appunto perché me l'ero segnato, a Varenna, a Varenna nell'Argonna, è bloccato, preso e sappiamo tutti che tipo di piega prenderanno le vicende personali di Luigi XVI e di Maria Antonietta d'Austria. Le teste rotoleranno, un po' come quella che finì sul vassoio di Erodiade e di Salome che chiesero il sacrificio di San Giovanni Battista. Dicevamo che la chiesa ha avuto una serie interminabili di Giovanni come la Francia ha avuto una serie di Luigi e proprio il 21 giugno del 1963 saliva o veniva nominato, eletto al soglio pontificio Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini che prenderà il nome di Paolo VI. Era il 21 giugno del 1963 e a lui toccherà chiudere l'8 dicembre dello stesso anno poi il concilio Vaticano II che era stato indetto ed aperto dal suo predecessore, da Giovanni XXIII. La nota curiosa è stato l'ultimo pontefice ad usare la sedia gestatoria. Dopo Paolo VI l'immagine che qui vedete riprodotta non è stata, come dire, non entra più negli archivi fotografici del Vaticano. Anche la sedia fu archiviata. È il 21 giugno ancora del 1970, visto che in questi giorni si sta celebrando a più riprese la famosa partita del secolo, si disse, la più bella partita di tutti i tempi, quella che portò alla vittoria sulla Germania, la famosa Italia-Germania 4-3, qualche giorno dopo, il 21 giugno del 1970, in Messico, ai mondiali di città del Messico, il Brasile diventava campione del mondo battendo l'Italia per 4-1. La partita è diventata anch'essa piuttosto indimenticabile per un immenso Pelé che sembrava avesse acquisito più che altre volte le ali per riuscire a saltare e colpire di testa al di sopra delle mani del portiere italiano, all'epoca era Albertosi. Per concludere questa rassegna di eventi legati al 21 giugno, il 21 giugno del 2001 c'è stata una cosa un po' paradossale. nel giorno in cui il sole raggiunge l'apice, raggiunge il suo zenith rispetto all'equatore, proprio il giorno del solstizio d'estate, 21 giugno del 2001, si ebbe l'eclissi totale di sole, fu stata la prima eclissi del terzo millennio. Riti, tradizioni, cerimonie, credenze legate a questa data e a questo passaggio del sole piuttosto significativo, sono legate e interessate quasi tutte le civiltà, sumeri, assiri, babilonesi prima, egiziani dopo, fino a quelle più a noi vicine, si sono tutte in qualche maniera confrontate e hanno inserito nelle loro liturgie, cerimonie, tra virgolette, cerimonie legate all'epoca era al movimento del sole, perché la convinzione era che la terra fosse al centro ed era il sole che ruotasse intorno alla terra. Gli egiziani lo facevano muovere, lo facevano viaggiare su una barca, la famosa barca solare, e il disco solare è più volte raffigurato sulla testa degli dèi, che di volta in volta attraverso anche le rappresentazioni di animali venivano ripresi e raffigurati. Qui, oppure legata ad altro tipo di tradizione ancora più antica, gli insediamenti di Stonengio o i menhir in altre località, si rifanno comunque a rituali legati al movimento così creduto all'epoca del sole. Qui al centro avete Atahualpa, uno degli ultimi sovrani della civiltà inca in Sud America, i quali avevano, un po' come tutte le civiltà che abbiamo visto, avevano un rispetto e una devozione nei confronti del disco solare, che si racconta avessero rinunciato a utilizzare la forma circolare e quindi la ruota come strumento di lavoro. Lo ritenevano una sorta di sacrilegio e quindi tutti i loro movimenti avvenivano, non beneficiando della ruota, ma attraverso la costruzione e lo spostamento di piani inclinati. Ad Atahualpa è legato uno degli aneddoti dopo l'invasione e dopo l'arrivo degli spagnoli in Sud America. Era stato con un inganno catturato dal comandante in capo di quella che era stata la prima spedizione spagnola giù in Perù, nei pressi di quella che poi è diventata la metaturistica per eccellenza, l'altopiano di Cusco. Pizarro aveva catturato con un tranello Atahualpa e quando provarono a spogliare e a depredare la città, gli occhi erano caduti sul tesoro conservato nel Tempio del Sole, dove al centro campeggiava questo enorme disco solare in oro. Il tentativo di Pizarro e dei generali era quello di impossessarsi dell'intero tesoro e in contropartita paventarono la possibilità, non rispetteranno questo accordo, paventarono la possibilità di restituire la libertà ad Atahualpa in cambio di questo tesoro. e a torto collo Atahualpa fu costretto ad acconsentire anche alla presa del tesoro del Tempio del Sole e pur non avendolo accettato, il disco solare cominciò a far parte già delle negoziazioni tra i generali e lo stesso Pizarro e la spartizione del tesoro. Tutto questo avveniva nella sera, in serata sotto la tenda e davanti allo stesso re Inca, al sovrano Inca, Atahualpa. La sollevazione popolare per questo atto, ancora più sacrilego, fece sparire nottetempo dal Tempio del Sole il disco solare. Da allora la massima che circolava nel popolo Inca era un po', per rimanere in tema, con i riferimenti calcistici precedenti, era un po' una variante al non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco di trappattoniana memoria. In questo caso il detto, il proverbio, l'aneddoto, si sintetizzava nella non venderti il sole se non l'hai visto sorgere, perché la sera prima i generali si erano già spartito il tesoro, sole d'oro compreso, mentre al mattino successivo gli Inca gli avevano fatto trovare il resto del tesoro sì, ma il sole, che era la cosa più importante per loro, era stato salvato, era scomparso. Atahualpa non si salverà, Atahualpa verrà poi giustiziato e questo provocherà una serie di divisioni interne al gruppo spagnolo, alla spedizione spagnola, perché molti di loro, ritenendosi cavalieri e uomini d'onore, l'impegno preso con il sovrano, con un sovrano, per quanto di un popolo che per loro era un popolo da terzo mondo, doveva essere rispettato e questo creò una serie di divisioni e in qualche modo indebolì anche la presenza spagnola in Sud America. Il 21 giugno, solstizio, legato a elementi e movimenti e a fenomeni atmosferici, spesso legati a movimenti dell'Unici come conseguenza delle fasi sia astrologiche sia geologiche della Terra, nel tempo hanno sempre legato questa data a una sorta di giro di boa, a scadenze particolari. La cattedrale di Chartres in Francia, come molte delle cattedrali in periodo medievale, veniva costruita su percorsi di pellegrinaggio e questi percorsi, questi pellegrinaggi all'epoca avvenivano anche per trovare una sorta di serenità spirituale interiore o in virtù di voti, impegni presi con il divino. La cattedrale di Chartres meriterebbe una puntata tutta per sé perché è un concentrato e anche un concentrato nel tempo si sono sedimentati tutta una serie di messaggi e di simbolismi sincretici legati sia alla teologia, ai due libri, all'Antico e al Nuovo Testamento, ma poi nel tempo si sono sovrapposti una serie di elementi esoterici, si sono sovrapposti una serie di architetture legate anche all'influenza massonica che aveva in quell'area cominciato a svilupparsi e oggi ci interessa in particolare il riferimento alla cattedrale di Chartres per questo grande labirinto che è disegnato sulla pavimentazione al centro della navata. Questo labirinto per molto tempo è rimasto non più che nascosto, aveva tutte le sedie e i banchi che lo nascondevano. In realtà la riproduzione, lo vedete, la riproduzione del labirinto darà poi, lo vedremo più avanti, darà poi il là alla ripresa di un rosone a noi qui a Bari più familiare. Ma come dicevamo, tutta la cattedrale di Chartres è un inno a questo gioco di sponda tra Antico e Nuovo Testamento e da lì partiamo con quello, saranno tre, anche se ce ne so, ce n'è qualcuno in più, ce n'è qualcuno in Valcamonica, c'è una roccia in cui il sole passa e si ferma nel solstizio d'estate esattamente all'interno di una circonferenza, di un foro giù a Gela in Sicilia, altre costruzioni hanno legato i legami tra il solstizio e gli elementi temporali, quelli legati alle meridiane che campeggiavano sia sulle facciate sia all'interno delle stesse costruzioni. Le vetrate di Chartres, l'altro elemento che ha reso famosa questa cattedrale, sulla vetrata che raffigura Santa Pollinare, in una delle fiancate della cattedrale, c'è un foro, lo vedete qui ripreso, c'è un foro attraverso il quale il 21 di giugno il raggio del sole entra e va a segnare un punto particolare della cattedrale di Chartres, lì vicino al labirinto, oggi contrassegnato da una incisione, da una lastra incisa che in qualche modo accompagna e spiega il fenomeno del solstizio. Questa riproduzione in qualche modo ha dato il là a qualcosa di analogo che si è voluto riproporre e copiare quando è stata costruita la cattedrale di Bari, la cattedrale di solito attribuita e anche nelle note come cattedrale di San Sabino, in realtà, questo l'abbiamo già sottolineato in un'altra delle nostre puntate, a San Sabino è dedicato all'altare maggiore di questa cattedrale, mentre essa stessa, come la maggior parte delle cattedrali, è dedicata alla Madonna Assunta in Cielo. La cattedrale di Bari è stata ultimata e consacrata nel 1292, quindi in un periodo in cui l'epoca cosiddetta Normanno Sveva aveva già lasciato spazio all'arrivo degli angioini e quindi all'arrivo del gotico, ma la costruzione era già in fase avanzata e l'unico intervento che in qualche modo riporta e lega le due carterali e anche in questo caso è nel rosone, perché il centro del rosone della cattedrale di Bari, se lo guardate, ha dei riferimenti al labirinto sulla pavimentazione della cattedrale di Chartres, ma soprattutto ha il legame nella proiezione della sua ombra in quella che è stata la riproduzione dello stesso rosone sul pavimento della cattedrale barese. Adesso ci arriviamo e lo vediamo meglio e nello stesso tempo raccontiamo anche come e che cosa c'è dietro questo evento. Il 21 giugno abbiamo visto che è San Luigi e normalmente il sole sale al suo zenith per restarvi nei tre giorni che vanno dal 21 al 24. Solstizio in realtà è esattamente questo, è il restare del sole in quella posizione e il lasso di tempo che va dal 21 dei tre giorni porta le due date ad essere profondamente legate perché il 24 giugno invece è la data in cui viene ricordato San Giovanni Battista, la nascita di San Giovanni Battista di sei mesi precedente a quella del Cristo. e vedremo come questi sei mesi e questa data sarà al centro del legame con il Battista e con la tradizione anche cristiana che vede al ridosso dei due solstizi celebrare non solo Giovanni Battista il 24 giugno ma anche Giovanni l'Evangelista il 27 in prossimità dell'altro solstizio, il solstizio d'inverno, il 27 di dicembre. i due Giovanni Battista a ridosso dei due solstizi e in particolare il Giovanni Battista che rappresenterà questa sorta di iniziazione, quella del battesimo per la tradizione cristiana e per anche il rito, per il rito cristiano che è il segno, il primo passo, la prima tappa del percorso che parte e si completa e che viene ripreso all'interno della costruzione di ogni cattedrale. ricordate che i battisteri all'inizio erano addirittura fuori della cattedrale, fuori dalla chiesa per potersi purificare e iniziare il percorso verso il tabernacolo a partire proprio dal portale, l'elemento di simbologia veniva sviluppato in tutta la liturgia e la ritualità. i battisteri poi sono stati pian piano inglobati nella chiesa, prima nella zona del Nartecio e poi addirittura all'interno della chiesa subito dopo il portale d'ingresso. dal battistero, ancora oggi la cerimonia del battesimo vede l'intera famiglia compiere questo percorso, al di là dell'ingresso dal portale centrale, il battesimo e poi il percorso nella navata verso l'altare. Questa iniziazione, se vogliamo, innesta nella simbologia del rito e nei riferimenti che spesso sono anche legati a precedenti credenze e ritualità pagane, il legame con la figura di Giano, il dio bifronte, Giano a cui è dedicato il primo mese dell'anno, gennaio, Giano da cui deriva abbastanza verosimilmente anche la stessa parola Giovanni. Io non vi ho messo qui le didascalie perché il tempo non me lo ha consentito, però penso che siano abbastanza riconoscibili il battesimo al centro di Piero della Francesca, e il Giovanni Battista di Leonardo da Vinci qui sulla destra. Questi riferimenti al battesimo, al battista e alle ritualità di antica tradizione, anche pagana, che in qualche maniera hanno lasciato il segno anche nella ripresa successiva delle diverse religioni, saranno importanti quando arriveremo nella tappa quella più suggestiva del gioco di raggi che filtrano attraverso i rosoni. Nella cattedrale di Bari il fenomeno è stato reso più suggestivo dalla ripresa, come abbiamo visto, della proiezione di questo rosone a 18 raggi, a 18 petali, nella zona in prossimità del transetto, che è la zona quella più lontana rispetto al portale di ingresso, raggiunta del raggio durante l'arco dei sei mesi. La proiezione della luce e quindi dell'ombra e dei petali del rosone avviene a un percorso lungo il matroneo nei primi mesi che vanno da dicembre verso giugno, per poi arrivare all'apice, in questo punto in cui è stata ripresa la proiezione del rosone e riportata attraverso questo mega mosaico sulla pavimentazione, per poi riprendere il percorso sul lato opposto andando lungo, di nuovo poi lungo il matroneo, fino al raggio più corto e ricominciare questo itinerario. In periodo di lockdown questa cosa, questa immagine oggi in questo preciso momento si sta compiendo il rito e l'assistere al fenomeno, solo che oggi i privilegiati sono 30 disabili che sono stati accolti nella Basilica Cattedrale perché prudenza e normativa da lockdown hanno impedito che l'afflusso fosse come al solito, lo vedete piuttosto numeroso, piuttosto partecipato, e anche con una serie di esecuzioni e di spettacoli all'interno della cattedrale, sulla navata nel periodo precedente, la perfetta coincidenza della proiezione del rosone su quello a terra e anche con una serie di interventi terzi. Come per la cattedrale di Chartres, anche qui il fatto di avere banchi e sedie che occupavano l'intera navata e non dico nascondevano, ma non avevano messo o fatto mettere in relazione la riproduzione del rosone a terra con il rosone originale sulla facciata. Dobbiamo dire grazie a Michele Cassano, che è l'assistente, ormai il San Pietro della cattedrale, quello che un tempo si chiamava il sagrestano, oggi però con una serie di dimensioni e di funzioni ben più articolate rispetto a quella tradizionale, dobbiamo a Michele Cassano l'individuazione, la riscoperta se vogliamo, perché sicuramente quando è stato realizzato la versione, il mosaico che sta sulla pavimentazione, il riferimento col rosone era voluto e testimoniato, ma col tempo si era perso e l'avere a posto e sovrapposto banchi e sedie si era perso, il legame si era perso, finché volendo preparare e dovendo preparare la Chiesa per una serie di eventi particolari ed erano stati, stiamo parlando del 2005, quindi in uno dei primi anni dell'Episcopato Cacucci, di Monsignor Cacucci, e dovendo preparare, quindi diciamo, la Chiesa per altri eventi, era stata liberata quella parte, ed era più o meno il 5 giugno quando è successo questo. Michele Cassano sale sul lambone che è sulla navata per preparare le scritture e il leggio che dovevano servire per la cerimonia e guardando dall'alto si accorge della proiezione della luce solare che filtrava, che attraversava il rosone della facciata, in quel momento era quasi perfetta coincidenza, perché non lo era ancora, e confrontandoci con Monsignor Franco Alvieri, in quel momento impegnato delle confessioni, rilevano e quindi riscoprono in questo modo il legame tra i due rosoni, e aspettando e testimoniando anche fotograficamente nei giorni dal 5 al 21 giugno, per la conferma della perfetta coincidenza della proiezione di quel rosone su quello musivo a terra il 21, da lì, dal 2005, inizia poi la ripresa di questo momento così suggestivo e che porta ogni anno attraverso anche una serie di manifestazioni multietniche, così come la tradizione voleva, multietniche e multietniche, se può essere passato il termine, con più forme d'arte, attraverso la musica, la danza, la lettura, la recitazione e infine naturalmente la preghiera e gli inni. L'incenso non fa altro che esaltare e accrescere e quindi rendere ulteriormente visibile l'attraversamento del raggio nel rosone prima di arrivare nella proiezione a terra. E tutto questo è possibile oggi in qualche modo ripercorrerlo attraverso il racconto che è stato condensato in una pubblicazione dallo stesso Michele Cassano, la Cattedrale di Bari, tra luce, cielo e terra. E' stato appena editato dalla casa editrice Gerso Rosso e credo che riprenda una serie di ricerche fatte precedentemente da Michele Cassano che in questa pubblicazione sottolinea e mette in diretta relazione con l'evento del solstizio a Bari e a sua volta mettendo in relazione l'evento del solstizio di Bari con gli altri solstizio. E quando parliamo di solstizio in Puglia non possiamo non far riferimento alla piccola chiesa, oggi piccola, all'epoca più che nevralgica e importante presidio di pellegrini, una sorta di stazione di posta dello spirito nel percorso verso la montagna sacra, verso il Gergano e verso il santuario di San Michele Arcangelo. Stiamo parlando della chiesa di San Leonardo in Lama Volara, a pochi chilometri da Manfredonia e vicinissima a quella che un tempo era la diocesi di Siponto, costruita nell'undicesimo secolo, affidata a diversi ordini monastici nel tempo. I primi in particolare furono gli Agostiniani e che ha visto la vista distrutta, ricostruita, recuperata, restaurata in più occasioni, anche perché pian piano si è ritrovata ad essere distante dai centri urbani che si sono poi sviluppati, perché la stessa Siponto, che era il cuore dell'intera area circostante, il cuore pulsante di questa intera area circostante, ha cominciato a diventare sempre più piccola e sempre più vuota di vita e di popolazione, a vantaggio della nascente e adiacente Manfredonia che poi diventerà quella che possiamo vedere oggi. A San Leonardo con gli Agostiniani si sviluppa quindi questo presidio per i pellegrini che andavano verso Monte Sant'Angelo e qui possiamo vedere l'intero complesso, perché pian piano poi si svilupperà, alla chiesa sarà aggiunto un complesso per garantire l'accoglienza prima dei pellegrini poi anche degli ammalati, quindi diventerà anche un centro ospedaliero. Grazie è una vicenda che ha seguito e che ha caratterizzato tanti centri della Capitanata, soprattutto con l'arrivo dell'Ordine dei Fatebene Fratelli che sviluppava il servizio ospedaliero, ma è con il periodo di affidamento all'Ordine Teutonico che si decide di aprire uno spiraglio, una sorta di presa luce sulla volta della basilica. Qui vedete nei capitelli, soprattutto al di là dell'adorazione, dell'omaggio dei remaggi, ma è il capitello qui in basso che testimonia sia la devozione sia il ruolo di questo presidio lungo questo tratto della francigena che portava a Monte Sant'Angelo. In primo piano c'è proprio un San Michele con la spada e riconoscibile sia dall'abbigliamento che dalle ali. Ognuno di questi presidi, come dicevamo prima, meriterebbe da solo un approfondimento per tutto quello che custodiscono e per quello che hanno rappresentato nel corso dei secoli. Oggi il tema è quello del solstizio, quindi affrontiamo solo questo aspetto. Nella volta in alto, nella volta della basilica, stiamo in un periodo più o meno coevo allo stesso che abbiamo affrontato con la basilica cattedrale di Bari, quindi con l'arrivo dell'influenza angioina e gotica. E stiamo negli anni successivi, perché l'Ordine Teutonico riceve in affidamento la chiesa di San Leonardo nel 1261. Sì, nel 1261. Ed è un momento particolare, perché qualche anno dopo, nel 66, con la morte di Manfredi, che aveva voluto la nascita della città di Manfredonia, abbiamo visto la sconfitta di Manfredi e Benevento, anche questo l'abbiamo affrontato in una delle puntate precedenti, la fine di quell'epoca e l'inizio dell'influenza angioina determinerà una serie di legami con architetture, ritualità e tradizioni tipicamente francesi. Anche qui, come a Chartres, come era stato fatto sulla cattedrale di Bari, la ritualità legata al 21 giugno e al solstizio acquisisce un'importanza fondamentale per legare questa basilica nel tempo, nel suo futuro, a qualcosa che non è più legato al passaggio dei pellegrini, ma a questo appuntamento del 21 giugno. Sono due i fori prodotti e poi ornati, se vogliamo, completati con la posizione di un rosone, che proiettano un raggio all'interno della basilica. Questo sulla volta, legato al solstizio d'estate del 21 giugno, e ce n'è un altro sulla parete ovest della basilica, che proietta invece il raggio nell'equinozio di settembre. Tutti e due sono stati, dicevamo, completati dalla posizione di un rosone per far sì che il raggio fosse filtrato e riuscisse a proiettare un'immagine, una forma sulla pavimentazione, che lo rendesse più evidente e, se vogliamo, anche più suggestivo. Il rosone apposto su questo foro gnomonico legato al 21 giugno rende omaggio a quello che all'epoca in qualche modo aveva fatto notizia, diremmo oggi. Era il rosone apposto sulla facciata della cattedrale di Troia, ed era ed è il rosone originale perché unico fino a quel momento per la sua divisione in undici raggi o undici petali. E sia per l'omaggio verso il rosone, sia per riprenderle il messaggio del nuovo cammino, del nuovo inizio. Ricordiamo che l'undici per la tradizione cristiana è il numero che in qualche modo identifica questo riferimento simbolico al nuovo inizio, al nuovo cammino. L'undici, dopo l'utilizzo delle dieci cifre a noi conosciute, da uno a nove più lo zero, testimonia proprio il ricominciare a contare. Quindi con l'undici si testimoniava il nuovo percorso. In qualche modo la stessa cosa a cui rimanda il solstizio, che dopo aver raggiunto il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, il suo zenith, inizia il suo nuovo percorso. Ma qui in particolare la ricerca è una ricerca piuttosto più che certosina, perché chi ha effettuato l'individuazione di dove il foro doveva essere posizionato aveva una certa confidenza con le meccaniche celesti, avrebbe detto Franco Battiato. E il raggio cade volutamente tra i due pilastri che sono al di là, subito dopo, il portale quello più importante della chiesa di San Leonardo, proprio a testimoniare il ruolo fortemente simbolico del sacramento del battesimo, come prima tappa del cammino di formazione, in altri contesti direbbero di iniziazione al percorso cristiano. Quindi l'individuazione del punto in cui il raggio cade al centro dei due pilastri, al di là del portale, ci rimanda immediatamente alla figura di Giovanni Battista. E se pensiamo, se ricorriamo al passaggio del capitolo 3, versetto 30, del Vangelo di Giovanni, l'altro Giovanni che ritroveremo poi celebrato in prossimità dell'altro solstizio, le parole di Giovanni Battista in qualche maniera spiegano il perché di quel foro tra i due pilastri al di là del portale. Non sono io il Cristo, sono stato mandato avanti a Lui e in particolare il versetto 30, Lui deve crescere, io invece diminuire. E che cosa accade il 21 giugno con il solstizio d'estate? Accade esattamente questo, il giorno dopo questa apparente sosta che dura tre giorni del sole nel suo zenith, la durata del giorno comincia pian piano a diminuire fino ad arrivare all'altro solstizio, quello del 21 dicembre, che porterà con la sosta dei tre giorni al 24 dicembre, la nascita, il Natale, e quindi la nascita del figlio di Dio. Quel Lui deve crescere, io invece diminuire, pronunciate da Giovanni Battista e ripresi da Giovanni l'Evangelista, sono la controprova, la spiegazione più immediata e quindi anche il voler sottolineare che tipo di ricerca era al centro delle attenzioni di chi effettuava studi e committenze all'epoca per questo tipo di lavoro. Il rosone apposto sul foro è una riproduzione, è un omaggio al rosone della cattedrale di Troia perché è un rosone ad undici raggi. L'altro rosone, che invece è apposto sull'altro foro, quello attraverso il quale il raggio si proietta nell'equinozio, si attraversa e si proietta sul muro nell'equinozio di Settembre, è invece un rosone a dieci raggi e l'immagine che proietta è un'immagine di una sorta di ovale, è la Vesicapiscis, la mandorla mistica, la migdola, e che a settembre rimanda alle celebrazioni mariane e ancora una volta nella scelta della tipologia e del rimando dei rosoni l'uno a dieci e l'altro a undici e l'altro a undici raggi sottolinea ancora il riferimento e l'analogia con l'equinozio di Settembre dieci raggi, le dieci cifre conosciute e quindi una sorta di equilibrio totale mentre con il rosone a undici raggi si sottolinea il solstizio che è il primo passo di un nuovo percorso, di un nuovo cammino, di un nuovo itinerario di iniziazione, in questo caso cristiana. E il legame con il solstizio, in questo caso d'estate, ci porta, scendendo verso il Mediterraneo, alla nascita, se vogliamo, proprio di questo arcipelago che si vuole avvenuto per una serie di movimenti geologici, tellurici durante il solstizio d'estate quando sul far dell'alba si alzò una colonna di mare e le acque si sollevarono a grande altezza mentre la terra sprofondava. è la rappresentazione di un maremoto la rappresentazione di uno sconvolgimento geologico avvenuto a suo tempo e che porta all'emersione di questo arcipelago subito di fronte alla Sicilia formato da una corona di isole e se il Monte Olimpo possiamo definire la dimora ufficiale la sede legale la sede legale degli dei le eolie possono considerarsi la cosiddetta sede operativa la residenza estiva in pratica la principale filiale divina nel Mar Mediterraneo il crocevia di venti e di correnti che fu affidato secondo la leggenda da Zeus ad Eolo figlio di Poseidone re dei mari più dio dei mari più che re dei mari e leggendolo a dio dei venti con il compito piuttosto complicato piuttosto articolato quindi non facile che era quello di di controllarli e di dirigerli questo è uno dei motivi per cui questo arcipelago è detto anche l'arcipelago degli dei ed Eolo secondo la leggenda li custodisce li custodisce in un otre all'interno di alcune caverne dell'isola di Lipari su cui aveva stabilito la sua reggia dal sud arrivava Austro il vento caldo a portatore di pioggia dal nord invece arrivava Borea il più violento quello conosciuto anche col nome di Tramontana e poi avevamo abbiamo Euro il vento dell'est tempestoso asciutto portatore del bel tempo e Zeffiro dolce benefico che da Ovest annuncia ogni anno la primavera a questi quattro venti potremmo dire quelli fondamentali se ne aggiungono altri quattro il maestrale che arriva dal nord ovest la Bora dal nord est il Libeccio da sud ovest e lo Scirocco da sud est gli ottoventi in questo modo compongono quella che nei secoli dei secoli è stata tramandata conosciuta utilizzata ed è diventata patrimonio di ogni navigatore la rosa dei venti impressa su ciascuna delle preziosissime bussole quelle utilizzate per orientarsi mentre prima ad orientare erano le 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 stelle no allora le isole sono sette anche se a queste sette sette sono le isole abitate in qualche modo più o meno abitate a queste sette se ne aggiungono se ne aggiungono altre altre tre ma che non sono che non sono non sono abitate lipari vulcano salina panarea alicudi filicudi e stromboli si dice che siano nate letteralmente dall'acqua dal mare la loro la loro origine è tipicamente vulcanica e nelle testimonianze le testimonianze geologiche ancora oggi testimoniano di una sorta di vivacità di una vivacità continua i vulcani nella zona in quell'area da quello più grande quello sulla sull'isola l'Etna agli altri l'isola di vulcano lo stromboli sono tutti vulcani ancora ancora attivi e quindi testimoniano una una vivacità del magma a volte anche a volte anche minacciosa il crocevia nel mediterraneo è un crocevia piuttosto significativo siamo passati dai pellegrinaggi sulla terraferma a a quelli che erano le 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 spedizioni a volte di crociati a volte di missioni a volte poi successivamente sono diventate commerciali e che avevano visto questa questa zona sia la Sicilia sia l'isola di Malta lì sulla sulla stessa dorsale protagoniste di di una di un'evoluzione e di e della storia stessa del del Mediterraneo il modo migliore per visitare per visitare le eolie è quello di affidarsi ai locali uomini di mare con le loro barche a motore sono loro che diventano le guide più esperte i ciceroni quelli più indovinati quelli più adatti quelli più adeguati alla scoperta di anfratti di calette limpidissime di paradisi naturali che sono disseminati lungo le coste di questo suggestivo arcipelago le sabbie a volte sono nere dette fumaiole le esalazioni che arrivano sia di vapore acqueo sia di zolfo e anidride carbonica che si sprigionano dalle crepe della terra in qualche modo come dire influiscono sulla qualità e anche sui sapori di particolari prodotti che nascono in quella zona penso ai capperi per esempio o alla malvasia il vino piuttosto dolce ambrato anche questo nell'arcipelago degli dei è detto il nettare l'ambrosia il nettare degli dei qui la declinazione è quello della malvasia e poi i musei archeologici le cave di pietra pomice all'ipari e qui vedremo come e quanto il cinema e l'industria cinematografica in queste aree ha determinato fortuna e flussi turistici e ho preso un po' di mi interessava riferire riferire riferirvi un paio di un paio di cose da un punto di vista letterario queste isole hanno stimolato gli interventi e le opere di Alessandro Dumas e di Guy de Maupassant e il cinema se qualcuno ricorda ha visto protagoniste a Vulcano Anna Magnani quando contemporaneamente o quasi contemporaneamente sull'altra isola a Stromboli nasceva una delle più affascinanti storie d'amore tra Ingrid Bergman e il regista Rossellini cosa che provocherà la gelosia anche di Anna Magnani ma poi a Lipari proprio nella cava di Pietrapomice era collocata la casa di Pablo Neruda nella ripresa cinematografica quella voluta da Massimo Troisi per le riprese del Postino e ancora sia a Stromboli sia la stessa Lipari le riprese di Cario Diario di Nanni Moretti e in questo crocevia del Mediterraneo eccolo finalmente l'ho trovato in questo che possiamo definire una sorta di paradiso di contrasti tipico della macchia mediterranea la cucina si esalta con l'uso sapiente delle erbe odorose rosmarino origano basilico aglio menta cappero i piatti sono pieni di fragranza irripetibile il protagonista naturalmente spesso è il pesce ma nella zona vulcanica il pomodorino in questo caso pomodorini a pennula determinano determinano anche la differenza di sapori originalissimi i comprimari di questi di questi piatti che siano popolari come i totani o più aristocratici come come le aragoste sono poi accompagnate spesso dai gran finali tipicamente siciliani dei dolci alle panderle dell'uva passita e del vincotto con i biscottini con i biscottini di sesamo l'indicazione personale è passando da Lipari e di non perdere la tappa di del ristorante da filippino dove sapori e originalità nella proposta culinaria veramente sono tipiche sia dell'arcipelago così come a Vulcano un altro presidio di un altro presidio di baffi da leccare è quello del diavolo si chiama il diavolo dei polli incontrata piano sull'isola di Vulcano a volo visto che siamo arrivati in chiusura per chiudere il cerchio e rimanere in tema con i protagonisti che abbiamo che abbiamo avuto durante il percorso col solstizio la tappa a Malta anche questa come isola meriterebbe la la puntata intera da dedicare e vedremo più in là se la facciamo rientrare nei nostri nel nostro nel nostro programma la puntata a Malta per andare a vivere l'emozione del del grande quadro conservato del Caravaggio nella in un'altra basilica parliamo della decollazione del Battista qui vedete alcuni particolari uno dei pochi quadri forse l'unico in cui il Caravaggio ha lasciato la sua firma tra l'altro proprio in prossimità del sangue che sgorga dalla dalla gola di Giovanni Battista e dove vi invito al particolare dello strumento che serve per tagliare quindi per portare a termine l'esecuzione e quindi poi tagliare lo strumento che in questo che nel particolare vedete il carnefice tiene nascosto e che se se ricordate bene porta un nome particolare quel coltello quel rasoio si chiama la misericordia Malta al centro di questi movimenti quindi con con i suoi scorci suggestivi vedremo di riprenderla nella nelle prossime puntate mi fanno scendere che siamo arrivati al di là e abbiamo sforato anche oggi con il solstizio nel frattempo nella basilica avranno anche loro terminato la la cerimonia io vi do appuntamento a domenica prossima probabilmente con con quanto avevo già anticipato e quindi la tappa sarà quella della penisola di Istria torniamo in torniamo in nell'Adriatico e proveremo a scoprire influenze rapporti di di e relazioni con quella che possiamo definire Istia Istria un amore perduto ricordatevi sempre che leggere rende liberi buona lettura e arrivederci a domenica prossima un amore